Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un prodotto per il benessere dei vostri piedi. Si tratta di un prodotto della Compid che produce anche altre cose per i piedi, dai cerotti alle sulette, agli alzatacchi e quant'altro. Nello specifico questo prodotto è uscito in commercio tre o molto più probabilmente quattro anni fa. L'ho subito acquistato, mi sono trovata bene, tant'è che questa è la seconda confezione. Come si presenta? Si presenta in una confezione in plastica verde lura, lo aprite tranquillamente a una rotella nella parte bassa, girando la rotella si estrae il prodotto, un po' come un classico burro cacao. Come funziona? Questo prodotto va applicato nella parte del piede che tende a fare attrito con la scarpa o il sandalo. Quell'attrito che poi, che cosa produce? Produce rossori e in seguito bolle d'acqua. A tutti bene o male è capitato, specialmente nel periodo estivo, di aver su delle scarpe o tendenzialmente dei sandali che danno questo tipo di problema. Ci sono sia sandali che già dall'inizio sappiamo che sono scomodi e là è un masochismo femminile, ce li mettiamo ugualmente e sappiamo che cosa andiamo incontro. Ci sono poi anche sandali che invece sono potenzialmente comodi ma che tenendoli su magari tutto il giorno, camminando molto, quindi il piede va magari ad ingrossarsi anche a causa magari della circolazione, a sudare, l'attrito aumenta e quindi andando a sfregare il piede contro la scarpa andiamo incontro alle bolle d'acqua di cui vi parlavo prima. Questo prodotto, come vi dicevo, va applicato nei punti che vanno a sfregare contro la scarpa e vanno a creare una sorta di pellicola liscia che fa scivolare la scarpa sul piede. Quindi anche nel momento in cui andiamo a camminare per parecchie ore il piede va a un po' di ingrossarsi, anche in quel caso si va a proteggere la parte dallo sfregamento aumentandone la parte liscia. Questo chiaramente è utilissimo per tutte le persone che d'estate si ritrovano spesso e volentieri, avendo magari una pelle anche delicata, con questi problemi. Problemi che nella giornata stessa chiaramente non ti permettono più di camminare in modo umano e nei giorni successivi non ti permettono più di mettere determinate scarpe proprio perché la bolla d'acqua fa comunque male anche nel momento in cui va poi ad aprirsi e a creare la ferita stessa. Io devo dirvi che con questo prodotto ho risolto tantissimo il problema. Vi dico che lo applico la mattina nelle parti in cui già so che il sandalo va a sfregare e porto poi sempre lo stick in borsetta in modo tale che non appena avverto il sentore di sfregamento vado semplicemente a riapplicarlo e risolvo il problema e evito, cerco quantomeno di prevenire per quanto possibile queste maledette bolle d'acqua. Come vi dicevo questa è già la seconda confezione e probabilmente ce ne sarà anche una terza, una quarta e quant'altro. Il prezzo onestamente non lo ricordo, non è comunque un prodotto costoso, mettiamo tra i 4 e i 7 euro. Io non so perché, ricordo più o meno 4, 90, 7, 40, una cosa del genere. Quindi diciamo che è un prezzo più che accessibile se calcolate che comunque dura parecchio nel tempo. Questo l'ho acquistato a inizio estate, estate dello scorso anno, non di questo. E adesso io non so se riuscite a vedere, comunque arriva qui. Quindi insomma c'è parecchio prodotto dentro anche applicandolo tutti i giorni. E più volte al giorno il prodotto ha un'ottima durata. Quindi insomma anche mettiamo dove usarne uno ogni anno. Sono comunque quei 7 euro che spendiamo risparmiandoci per una marea di soldi in cerotti e per i giorni successivi agli incidenti con le scarpe. Quindi per me è il prodotto più che promosso, acquistato e riacquistato, e che riacquisterò anche in futuro.